Sono Ivo Tiberio Ginevra, sono l'editore dei Buoni Cugini e faccio un altro video perché le vostre maestre me l'hanno richiesto. Ma questa volta mi hanno detto, senti fai un video particolare perché i nostri alunni sono abbastanza requieti, quindi per favore fai un video dove si spieghi bene come venivano trattati i bambini monelli all'epoca del 1800, diciamo tra 1700 e 1800. Mi è venuto in mente un romanzo di Luigi Natoli, un bellissimo romanzo di Luigi Natoli, anche questo ambientato a Palermo. E' perfetto, vi calza a proposito. Il romanzo si chiama I mille e un duelli del bel Torralba. E' un romanzo che i Buoni Cugini, cioè noi, abbiamo ricostruito perché era tutto a pezzi nel giornale di Sicilia e abbiamo fatto un romanzo pubblicato per la prima volta. Il romanzo è bellissimo ma parla proprio di voi brutti monelli, bambini. Allora, in poche parole, cosa dice? Dice che questo Torralba, famiglia nobile Conti a Palermo, questo Torralba aveva, questo conte, cinque figli. Un figlio più grande, che poi era quello che si prendeva il titolo, quindi c'era un conte, non è che c'erano cinque conti perché aveva cinque figli. Il primo genito era conte. Conte. Tutti gli altri, beh, se erano femmine andavano a buttare nei conventi, nei monasteri, insomma, se le davano anche perché bambine, allevano le bambine, insomma, le buttavano nei conventi. Gli altri gli davano il titolo di cavaliere, ecco, cavaliere, però poi, tipo niente, poi si dovevano organizzare loro. Insomma, tutti i piccioli, tutta la gloria, se la popava il primo genito. Gli altri niente. Fabrizio Torralba è il secondo genito, quindi, alla fine, di tutti i soldi del padre, no, no, niente. E quindi questo è costretto a vivere di elemosina, cioè, qua deve vedere il fratello, tutto, e lui niente. Una specie di Caino e Abele, però non ammazzate a nessuno. Anzi, lasciamo perdere, levata la Bibbia, ecco, era proprio cattivo. No, non c'è già niente. Levate tutto. Diciamo che era un po' invidioso del fatto che il fratello avesse tutti i piccioli, avesse il titolo, e lui niente, si doveva arrangiare così a vivere. Allora è cresciuto piuttosto discolo, diciamo così, disco. Monello, Monello, Monello. Allora, se ne scappava la notte, la sera usciva, amicizie cattive. Insomma, a un certo punto il padre, perché prima i padri avevano potere di vita e morte sui figli, adesso siamo quattro festacchiotti che vi facciamo fare quello che volete. Volete la Playstation, volete questo, volete quello, compriamo tutto. Ma prima il padre, cavolo se si obbediva. Allora, in questo caso, il conte, il padre, prende Fabrizio e lo va a chiudere alla quinta casa. Quinta casa, attenzione. Che cos'è la quinta casa? La quinta casa era un vecchio convento gesuita, poi i gesuiti li buttammo fuori, e allora restava una caserma di cavalleria, poi buttato fuori. Insomma, era un correttorio. Praticamente venivano chiusi i ladroncelli, le persone un po' e soprattutto quei ragazzi della nobiltà che non volevano rigare dritto. E poi ne chiudevano alla quinta casa. In questa quinta casa veniva data un'educazione piuttosto rigida. Diciamo che c'era un frate, si chiamava frate Geronimo, non ha niente a che fare con gli indiani, però Geronimo. Ha aiutato da una certa monaca spretata, Donna Virginia. Loro due si occupavano dell'educazione di questi ragazzi qui. O educazione come? Educazione che potevano, anzi dovevano dare da 20 a 40 nerbate settimalari nel culetto a tutti questi nobilotti che non rigavano dritto. Quindi era un'educazione proprio così. Addirittura poi Fabrizio Torralba ne prese così tante, ma così tante che non si poteva più scedere. Un disastro. Vabbè comunque lui scappa pure di là, scappa a tutte parti e diventa un tipo un poco particolare. Uno con il, come si dice, con la puzza sotto il naso, no? Che sentisse puzza. Per puzza si intende il fatto che non se ne faceva passare una. Allora ogni volta, alla prima festeria sfidava la gente a duello, siccome era bravo. Ta ta, ammazzava a tutti. E sfida questo, sfida quello, sfida mille duelli. Ma uno, 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 è quello più importante di tutti. Ma è un bel romanzo, un bel romanzo, un domenico è un bel romanzo. Molto palermitano, parla di Palermo, ma Fabrizio soprattutto è un palermitano. C'è tutte quelle cose palermitane tipiche. Si sente pure molto, si sente anche quello che non è. Mai ricorre alla giustizia, mai, per favore, mai. E lui le cose se ne risolve con la spada, perché è bravo. E offendono la donna e lui subito va a difendere questa qua. E allora magari gli dicono, oh senti, vedi che c'è? Allora subito a duello. Addirittura ogni tanto vede qualcuno per strada, sai, vestito così, elegante, con queste... E lui lo prende in giro, duello. Duelli, 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 duelli. Ma uno, l'ultimo, è il più importante di tutti. Ma che succede all'ultimo duello? O vi leggete il libro, o ve lo fate raccontare dai vostri genitori che si sono letti il libro, oppure costringete la maestra a leggersi il libro e poi ve lo far raccontare. Così siamo pace. Vi abbraccio. Ciao.